Conferenza stampa questa mattina nella sede del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania per la presentazione di Life in Naples, una prima rivista multiformato napoletana, rigidamente napoletana, concepita per diffondere la cultura, le arti, la letteratura, i colori e tutto quello che non ha parole la vita a Napoli. Siamo in compagnia di Gianni Nappa, un critico d'arte, consulente di questa rivista. Come mai nasce l'idea di Life in Naples? Nasce sicuramente dalla passione, dalla voglia di portare di nuovo un messaggio di cultura pura della napoletanità. Napoli esprime tante capacità, tante operatività, attraverso Life in Naples che è un multiformato volutamente in linea con i tempi, quindi con una tecnologia che avanza e noi siamo sul passo di quelle che sono anche delle indicazioni che il futuro già ci dà. Cioè passare sul web, avere una capacità di veicolazione collettiva, cosa che in qualche modo riesce anche a darci la soddisfazione di essere presenti con delle cose che sono l'anima, l'humus della città. E che noi trimestralmente con Life in Naples che da ieri in edicola proporremo alla cittadinanza.